Emozioni, emozioni incredibili qui da Giordano alla sposa in via Gaetano D'Aica, io vi presento qui Carolina, io non potevo lasciarla qui andare, l'ho detto devo riprendermi con Carolina, lei è una mia sposa meravigliosa, una sposa fantastica, una sposa proprio con cui ci mandiamo i messaggini e sei nel mio cuore, io ti voglio bene, hai scelto un abito bellissimo, non possiamo dire quale, no no no, però sarai bellissima, quella abito lì ti si è illuminato di menso, adesso iniziano qua a connettersi, è un incanto, esatto, è un incanto e sei bellissima, poi parlano i tuoi occhi, siamo tutti mascherati qui, ma parlano i tuoi occhi e sei veramente bellissima, io sono contento, sei una garanzia, sei una garanzia veramente, no no, io ti ringrazio, le mie spose sono tutte nel mio cuore ed è vero, perché insomma fate parte del mio sogno e poi quando postate io vedo vedere i tuoi occhi, il tuo viso, la tua energia, poi mi hai portato anche adesso non possiamo aprirli qui ma, esatto, delle cosine buone palermitane, ma qui come faccio a fare la dieta? io volevo fare la dieta, cioè in Sicilia, come si fa a fare la dieta, cioè non si può, qui è impossibile, è impossibile, va bene, pelatono in Piemonte, mi metto brudino, pelatono, però qui non si può fare, infatti, va bene, comunque qua, guardate, non l'apro, l'apro dopo, e poi c'è anche questo, un piccolo, sì, anche i biscottini, i biscotti, mamma mia, guardate qua, ragazzi qui, vabbè, me li mangio qui, cinque minuti e mi mangio tutto, perché sono buonissimi, sono buonissimi, va bene, io ti ringrazio di cuore, veramente, sei bellissima fuori, bellissima dentro, perché, no, perché, perché ho percepito la tua personalità e sei veramente una persona splendida, ti voglio bene, che dire, non so, ci stiamo commuovendo qui in diretta, qui da Giordana Spose, qui a Gaetano Daita, giornata meravigliosa, Stefano sei nel mio cuore, ti voglio bene da Napoli, vai Patrizia, qui sono tutte, tutte le mie spose sono nel mio cuore, io gli voglio bene, e stavo dicendo, vederle, la loro gioia, il loro sorriso, sia in questo momento, come Carolina, che poi quando si sposano, io la prima, sai, quando vedo le foto su Stefano Blandiano in Official Group, una delle, la prima cosa, la prima gioia è vedere il viso di queste, di tutte le mie spose, quando escono fuori dalla chiesa, quando sono a casa, e c'è questo sorriso, questa gioia negli occhi, ed è una gioia immensa, diciamo, sono proprio, sono proprio contento, va bene, viva Carolina, diciamo, cosa diciamo ancora, qui? Io non vedo l'ora di sposarmi e indossare il tuo abito, perché è incantevole, veramente, io ho tante, tante paure, però su questo sono sicura al 100%, Io sono incantato da te, quindi non posso, non posso dire niente, sei unico qui, allora, salutiamo, salutiamo tutte le spose, qui ci seguono sempre un sacco di persone, quindi le salutiamo, vi vogliamo bene, tanti saluti qui da Giordana Spose, con la mia sposa Carolina, che è nel mio cuore, a tutti, ciao, 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 enjoy, vai, siamo stati proprio romantici, qui, ritorniamo all'enjoy, vai, ciao, 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 qua.